Andare a cercare i clienti e gli appassionati dei prodotti della tradizione no gastronomica del Nurese direttamente nella porta della Sardegna rappresentata dall'aeroporto Costa Smeralda di Olbia dove annualmente transitano quasi 1.900.000 passeggeri più dell'intera popolazione dell'isola e con un picco di 400.000 passeggeri solo ad agosto E questa è la finalità della manifestazione, un viaggio tra cultura, tradizione e sapori con un sottotitolo importante, i prodotti della Lega Copp prendono il volo perché è proprio questa la finalità dell'iniziativa promossa dalla Lega Copp di Nuoro Gliastra insieme alla Giazar, la società che gestisce l'aeroporto di Olbia col patrocino della Camera di Comercio di Nuoro quello di far conoscere i turisti specie stranieri che frequentano nel periodo estivo la Sardegna le prelibattezze della produzione agroalimentare sarda organizzando quattro giornate di degustazione all'interno della struttura aeroportuale L'iniziativa è stata presentata stamattina a Nuoro nel corso di una conferenza stampa All'incontro sono intervenuti Totoni Sanna, presidente della Lega Copp di Nuoro Gliastra Lucio Murro, direttore commerciale della Giazar e Giovanni Prisi, segretario generale dell'ente camerale Il territorio della vecchia provincia di Nuoro è stato diviso in quattro aree geografiche che esporranno in giornate diverse Si inizia il 2 agosto con l'Ogliastra, i suoi formaggi e i vini con la preparazione in loco dei Curur Jones Il 9 sarà la volta del Margine Il 23 tockerà il Nuorese che presenterà il pane Carasau e il pane Vrattau Si chiude il 30 con la baronia Totoni Sanna ha chiarito che l'obiettivo è intercettare i turisti per fargli apprezzare quanto di buono producono le aziende nuorese dal vino al formaggio senza dimenticare il pane o le sevadas Lucio Murro ha ricordato i numeri dello scalo aeroportuale che nel 2013 tornerà a crescere per volume di traffico Il Costa Smeralda poi è collegato con 54 destinazioni internazionali e questo significa avere una vetrina importante per l'isola La Giazar intende intensificare i rapporti con le aziende nuorese sfruttando la stagionalità che ora rappresenta una grande risorsa Per Giovanni Pirisi la Camera di Commercio sostiene questa iniziativa e punta anche alla destagionalizzazione del turismo una strada intrapresa con la manifestazione autunno in Barbagio